Circa 1.600 nuovi avvisi di accertamento destinate ad assegnatari dei progetti case e dei mappa che non hanno pagato riscaldamento e acqua calda tra il 2013 e il 2014 e il 2018. Altra sonora ammazzata per i morosi, oltre a tutte le cartelle già arrivate. Pugno duro perché necessario, l'assessore Colonna lo ha ribadito più volte. Il comune non può incappare nella Corte dei Conti perché la gente non paga, questo è il concetto. È un giro di 2 milioni di euro, quello che l'ente deve incassare ora per il riscaldamento, 8 mila euro per le spese di spedizione, 850 per le stampe e le scansioni degli avvisi. La prima appendenza dei morosi con il comune si aggira sui 12 milioni di euro invece tra utenze, canone di locazione e spese condominali. Molti invocano la prescrizione. Nell'ultima determina si leggono con esattezza cifre anche gli avvisi spediti, 1.571 per l'esattezza. Gli avvisi impongono di adempiere subito dando come tempistica 30 giorni, pena, la riscossione forzata. Gli accertamenti in sostanza acquistano efficacia di titolo esecutivo per le entrate extra tributarie decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto. Gli avvisi quindi continuano ad arrivare. La scorsa settimana ne erano stati inviati circa 300 per 450 mila euro, alcuni relativi ai canoni, altri per riscaldamento e con guagli. L'assessore Colonna vuole mettere a posto tutti i conti. Ha spiegato pure che la prescrizione a due anni scatta solo se c'è un rapporto diretto tra fornitore utente. Il discorso qui è diverso perché il Comune ha già saldato al fornitore, gli utenti quindi devono restituire. Nessuna vessazione, ma è il giusto. Il sindacato inquilini però annuncia battaglia e vuole la prescrizione e ha chiesto al Comune l'annullamento in autotutella delle diffide da adempiere per tre assegnatari perché relative ad anni passati erano con guagli e quindi per loro in prescrizione. Altri assegnatari si starebbero organizzando in comitato.